Questo rosso viene via ancora, è un rosso. Questo quadro per esempio ha delle incrostazioni già da tempo e adesso è tutt'altro che finito. Questo quadro resterà lì, quando poi secca il colore lo riprendo, lo rivedrò eccetera. Un quadro non è mai finito in modo assoluto, va visto nel tempo, poi se c'è bisogno si riprenderà. Un quadro non è finito in modo assoluto, va dire che non è finito in modo assoluto. Un quadro 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 non è finito in modo assoluto reale cop mentality. Un quadro non è finito in modo assoluto. Grazie a tutti